Coroneranno il loro sogno d'amore a Villa Maina sabato 12 agosto alle 18 nella Chiesa Madre. Alain Mokuba e Mariste L'Anseia, congolesi residenti a Parigi, hanno rivoluzionato almeno per qualche giorno la vita tranquilla rutinaria del piccolo comune, poco più di mille anime, rinomato per le antiche terme di San Teodoro. È una storia semplice e simpatica che però, inserita nell'attuale contesto di emergenza migranti, assume i contorni di un evento emblema del rispetto reciproco tra due culture e due mondi radicalmente diversi. Alain e Marie, sebbene da anni in Francia, hanno scelto Villa Maina perché colpiti dalla bellezza paesaggistica in cui il paese è immerso. Qui ci sono venuti per fare visita al loro parente parroco Don Federico, Frederick Molwa Masichini, e da lui faranno celebrare la loro unione in matrimonio con rito cattolico e tanto di messa, ma non mancheranno momenti legati alle tradizioni congolesi. Il sindaco Stefania di Cecilia, testimone di nozze, banchetto allargato a tutti i cittadini con un menù che alternerà piatti tipi cirpini a pietanze congolesi. In questi giorni fermano i preparativi e quali sta partecipando tutta la comunità. A Villa Maina sono già arrivati i parenti e amici congolesi degli sposi ospitati dai villamainesi. Più di cento gli ospiti che in questi giorni animano il paese. Il comune delle Terme riscalda così i motori sul fronte dell'ospitalità. Questo evento prepara in qualche modo il comune capofila dello Sprar alla imminente accoglienza di 40 profughi insieme ai comuni di Teora, Torella e Villa Maina. Profughi che arriveranno con ogni probabilità a settembre. Il paese è in festa e c'è tanta curiosità, unino alla multietnicità culturale e all'integrazione vera. Quella voluta e sentita da tutti, spontanea e libera, certamente non imposta da regole e obblighi che guardano ad interessi di pochi.